Come si nasce al tempo del covid? Quali sono le modalità previste dai protocolli sanitari? Ne abbiamo parlato con il dottor Claudio Cicoli, direttore dell'unità operativa complessa ossetricia e ginecologia del Santa Croce di Fano e San Salvatore di Pesaro. Il primario non solo ci racconta delle procedure messe in campo all'inizio dell'emergenza sanitaria, ma ci illustra anche il percorso protetto di gravinanza a termine che prevede un accesso familiare in tutta sicurezza. Dottore, quando è scoppiata la pandemia, quali azioni avete intrapreso? Come vi siete organizzati? Partiamo da febbraio scorso, quando è scoppiata la pandemia covid-19 che chiaramente ha messo un po' a sedere tutto il sistema sanitario locale, ci siamo dovuti organizzare anche dal punto di vista ostetrico e ginecologico in questo modo. Abbiamo dovuto chiudere un reparto, uno dei due reparti Pesaro-Fano. Dapprima si erano andati tutti a Pesaro, poi successivamente, siccome la direzione aveva deciso di fare il punto di raccolta covid al San Salvatore a Pesaro, praticamente l'ostetricia si è ritrasferita a Fano, dove dal 10 marzo ad oggi siamo operativi H24 con l'organico presente sia di Fano che di Pesaro. Come è stata gestita l'assistenza al parto? Quando è scattata l'emergenza covid, chiaramente anche per l'assistenza al parto, abbiamo dovuto vedere alcune cose. Chiaramente noi avevamo come obiettivo di far partorire le pazienti in sicurezza, cercando di mantenerle lontane soprattutto da un rischio di infezione covid che in quei mesi era molto 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 alta. Per cui seguendo anche quelle che erano le direttive regionali e nazionali, praticamente abbiamo un pochino tenuto isolate le mamme durante il travaglio di parto, il parto e l'adegenza, tenendole lontane dai familiari. Noi sappiamo che il parto e la gravidanza è un momento fortemente emotivo per la coppia, per cui questo parziale distaccamento di un componente della coppia, in questo caso il marito e il compagno, chiaramente ha creato un pochino di scompensi emotivi all'interno della coppia stessa. Anche se noi non l'abbiamo lasciata completamente sole perché nel momento espulsivo del parto oppure nel postpartum successivo, fino alle due o tre ore, i mariti sono stati con le mamme, con i bambini, hanno potuto fare fotografie al bimbo, al bagnetto, per cui quelle cose più belle, più emotivamente forti, praticamente l'hanno vissute lo stesso. Solo che in questo momento, finito queste due ore, il marito se ne tornava a casa e praticamente per i due giorni dell'adegenza, solo attraverso dei tablet o le videociamate, potevano avere questo contatto. Per cui dietro a delle forti richieste da parte delle mamme, che praticamente le abbiamo viste anche a volte un po' in difficoltà, perché specialmente le pazienti che partorivano per la prima volta, erano un pochino inconsapevoli a quelle che andavano incontro, per cui la presenza del marito per loro poteva essere anche un supporto molto forte. Per cui abbiamo capito questa richiesta e in accordo con la direzione medica di presidio dell'ospedale di Fano e con la direzione generale abbiamo praticamente seguito, abbiamo creato un percorso in modo tale da poter far partecipare al parto anche un familiare stretto che in genere nella maggior parte dei casi è il compagno o il marito. Siete stati primi nelle marche? Noi diciamo che siamo stati primi nelle marche a individuare un percorso in sicurezza per far partecipare i mariti direttamente durante il travaglio in tutte le operazioni del travaglio parto e nell'adegenza. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un percorso in sicurezza in questo modo. Noi già avevamo fatto un percorso per le mamme, per far partorire le mamme in sicurezza, cioè sottoponevamo le mamme a tampone Covid alla 39esima settimana e praticamente questo tampone grossomodo scrinava le pazienti positive da quelle negative. Le pazienti negative chiaramente venivano, siccome dal momento in cui facevano il tampone, al momento del parto c'era una finestra dove potenzialmente poteva rinfettarsi, chiaramente si raccomandava alle pazienti negative di non stare a contatto con luoghi affollati, di stare strettamente in quel periodo a caso, in modo tale che quando venivano a partorire sicuramente ancora erano la condizione della negatività, anche se noi nonostante che facevano il tampone, quando venivano in reparto, a partorire le consideravamo come fortemente, cioè come potenzialmente infette, per cui tutte le misure preventive che dovevamo adottare le abbiamo sempre adottate, tipo la pulizia delle mani, la mascherina, il distanziamento. Abbiamo voluto dare la possibilità alle mamme di far partecipare un stretto familiare, in questo caso il marito, facendo questo percorso anche al marito, per cui alla 39esima settimana noi sottoponiamo tampone, naso, faringeo il marito. Se il marito è negativo, chiaramente fino al momento del parto gli si danno le stesse consigli di non frequentare luoghi affollati o potenzialmente infetti, in modo tale che nel momento in cui la donna viene a partorire può entrare anche il marito durante il travaglio di parto, seguirlo tutto fino al momento del parto e venire anche nei giorni successivi alle visite negli orari prestabiliti. Chiaramente se è positivo invece, chiaramente si ritorna a quello che è il protocollo Covid che prevede la nascita di questo bimbo nell'ospedale del punto nascita di Pesaro, che non è chiuso ma è tutt'altro, è più che attivo, perché è il punto di riferimento per tutte le mamme Covid positive che si trovano in stato interessante che dovranno espletare un parto. Il tampone previsto per il percorso protetto a Santa Croce è gratuito, ci spiega il direttore, perché è a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti la direzione ha deciso di non far ricadere questa spesa sulle famiglie. Quanti sono i parti che registrate mensilmente e quali sono i vantaggi di avere un punto nascita unico? Noi da quando abbiamo un punto nascita unico ci aggiriamo intorno ai 95-110 parti al mese circa. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere almeno 120-130 parti al mese, perché da quando siamo punto unico, nascita Trafano e Pesaro, dipendentemente da dove questo sia, praticamente noi abbiamo messo insieme due organi, due formazioni, due piante organiche che mentre prima lavoravano in reperibilità, oggi noi H24 siamo presenti senza praticamente l'ausilio dei reperibili. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi H24 siamo pronti a rispondere a quelle che sono le urgenze e emergenze dell'ostetricia e voi sapete che in ostetricia ci sono tante emergenze come i distacchi di placenta, come praticamente le sofferenze fetali acute oppure come le gestusi che richiedono praticamente nel momento in cui si presentano un intervento immediato e chiaramente prima si arriva a risolvere certe situazioni e prima praticamente risolviamo anche delle situazioni in cui arrivare tardi vuol dire a volte anche creare degli handicap permanenti. E quindi avete due medici? Sì, noi abbiamo H24, due medici, quattro ostetriche, poi abbiamo l'anestesista e quindi la sala operatoria può essere praticamente, quanto c'è bisogno, è aperta in emergenza nell'arco di pochi minuti. Anche nei prossimi mesi si manterrà il punto nascita unico? Finché rimane l'emergenza Covid io penso che le direttive regionali e quelle che sono le direttive della direzione stessa siano quelle di rimanere in questa situazione, abbiamo visto anche dagli ultimi dati che il virus ancora è presente, che c'è praticamente una ripresa nel numero dei contagi, questo non ci deve far abbassare praticamente la guardia, dobbiamo sempre tenere presenti quelle che sono le prevenzioni, quindi io mi raccomando sempre disinfezione delle mani, portare la mascherina, non frequentare luoghi affollati e quando è proprio necessario praticamente avere l'accortezza di seguire tutte le norme. Questo è l'augurio che io faccio per, diciamo in sicurezza, percorrere un cammino che come nel caso dell'ostetricia è un cammino dove alla fine come obiettivo è la nascita di un bimbo in sicurezza e dove una famiglia praticamente deve accogliere nel pieno benessere e nel pieno della salute praticamente questo bimbo che rappresenta un'aspettativa di vita per la famiglia per tutti i familiari che gli stanno intorno.